Ashtar Sheran via Sharon Stewart 11 gennaio 2021 traduzione marina 7 gennaio sono Ashtar Sheran qui per aiutare a calmare i nervi logori della comunità della luce sul pianeta terra gli eventi di ieri non sono stati gli eventi che molti di voi si aspettavano sentire oggi quello che sembra essere un messaggio di concessione di donald trump è anche un altro shock moltissimi di voi si aspettavano che egli avrebbe condotto il vostro mondo in una nuova era di libertà per l'umanità ma come Sharon ha sottolineato in tante occasioni cosa intendete per libertà la libertà funzionerà ancora la libertà deve guadagnarsi un assegno per sfamarsi o c'è ancora una definizione più ampia Sharon ha anche chiesto se trampa è per liberare il mondo allora perché gli operatori di luce sono qui perché devono avere accesso a fondi illimitati per creare comunità per i più illuminati di voi il compito del signor trump è solo quello di esporre lo stato profondo e lo ha fatto egli ancora una volta prenderà il timone di una nuova amministrazione in qualche forma forse non come presidente potrebbe infatti decidere di abbandonare la posizione di leader e nominare un nuovo candidato al suo posto questo non è ancora stato deciso la vostra prossima amministrazione potrebbe sembrare molto diversa da quella a cui siete abituati ora semplicemente perché molti degli attuali collaboratori del signor trump sono criminali da portare via e rinchiudere i processi inizieranno e i fondi del quantum financial system saranno rilasciati ad un numero maggiore di candidati che si qualificano per questi fondi umanitari le visite extraterrestri diventeranno più frequenti come ha notato Sharon le nostre navi attualmente si librano appena sopra il vostro pianeta sotto il ponte delle nubi siamo molto vicini ed è perché ci avete chiamati qui aspettatevi delle sorprese entro le prossime due settimane ma sappiate che nuove persone si assumeranno la responsabilità sul vostro pianeta e la responsabilità personale di ogni persona crescerà in modo considerevole è tempo che tutti voi prendiate parte al vostro futuro i governi esisteranno ancora tuttavia saranno ripuliti dai criminali e dagli esseri oscuri potete avere la mia assicurazione su questo la loro esistenza sul pianeta terra è tanto una questione galattica quanto una questione di esopolitica per la terra il cambiamento è la nuova parola d'ordine per la terra l'alleanza farà un passo avanti e ancora più di queste anime gentili vi saranno note respirate profondamente e siate confortati non tutto è perduto tutto è in movimento adonai ashtar traduzione e voce marina